Non riesco a vedere niente, le tende sono tutte tirate. Tu senti qualcosa? No, hanno predisposto una barriera magnetica contro le intercettazioni. Che ne pensi Kelly? Secondo te per quale motivo la squadra speciale è venuta qui? Probabilmente ha qualcosa a che vedere con la famosa collezione di quadri che deve arrivare qui da Hong Kong. Per meglio proteggerla, dici? No, non è questo che penso. Secondo me il loro scopo è quello di catturarci. Cosa?